La tradizione del calendario dell'Accademia Raffaello da tre anni si amplia anche grazie all'entrata del Comune e della Galleria Nazionale delle Marche. 500 copie dedicate a Federico nel suo anno, già andate esaurite. Questo indica che ci sono delle persone che si aspettano il calendario dell'Accademia Raffaello, che adesso è diventato il calendario anche del Comune di Urbino e anche della Galleria Nazionale delle Marche. Quindi essendo in tanti a promuoverlo finisce subito e finisce subito nei tavoli delle istituzioni, delle famiglie e degli uffici. Quindi siamo molto contenti che appunto il calendario abbia avuto già subito la sua destinazione e che possa accompagnarci quindi nel 22 con le immagini di Federico da Montefeltro. Il 2022 sarà un anno intenso, direttore. Il Palazzo Ducale intanto entra nelle case e negli uffici grazie a questo calendario. Per cosa si sta lavorando? Allora, Palazzo Ducale lavora quest'anno a diverse iniziative, alcune legate alle celebrazioni di Federico da Montefeltro. Una grande mostra aprirà nel mese di giugno e si chiama Urbino Crocevia delle Arti, raccontando proprio questo clima culturale intensissimo della città in epoca federiciana. e lavoriamo ormai da un anno, ma insomma siamo in fase finale, all'apertura del secondo piano che darà la possibilità di visitare tutto Palazzo Ducale. L'ascensore è stato montato proprio stamattina e quindi piano piano cominciamo a vedere le tappe per l'apertura del Palazzo e il ricordo ancora che ci permetterà di esporre praticamente tutto quello che abbiamo in deposito, quindi rendendo disponibile e fruibile a tutti le ricchezze presenti nei depositi, bisogna appunto seguire questa necessità di mostrare quanto fino ad oggi non siamo riusciti a far vedere. e quindi noi siamo pronti e vi aspettiamo nel corso dell'anno a Palazzo Ducale fiduciosi che raccoglieremo il consenso del pubblico, che è stato fedele anche in questi due anni di pandemia, non ha mai perso la fiducia nei confronti del nostro museo, che ha raccolto anche quest'anno un bel numero di visitatori e ci stiamo attrezzando per fare in modo che anche il 22 sia un anno di celebrazioni di Federico e di celebrazioni della Galleria Nazionale delle Marche, dell'arte marchigiana e di Urbino come appunto Crocevia delle Arti. La cultura entra nelle case, il calendario può sembrare un oggetto inutile, ma in realtà è estremamente utile quello che consultiamo ogni giorno. Tutti abbiamo, credo, l'applicazione sul telefono, sullo smartphone per avere il calendario sempre a portata di mano. Indubbiamente è utilissimo, però il calendario è un simbolo che non muore mai. Portare Federico, perché quest'anno è dedicato a Federico all'interno delle case, è un modo in più per raccontarlo e per averlo vicino tutti i giorni. L'amministrazione comunale sostiene questa operazione, non è la prima e non sarà probabilmente nemmeno l'ultima. Ci auguriamo che, insomma, piaccia. Al momento sono rimaste davvero pochissime copie, quindi il sentimento, insomma, ci porta a dire che sta andando bene. È andata bene.